buongiorno cari bambini un'altra settimana è trascorsa come è andata questa settimana che finalmente avete potuto fare una piccola passeggiata o magari anche andare al parco con la mamma con il papà che giri avete fatto di bello magari poi me lo scrivete vero a io lunedì che tra l'altro era anche il mio compleanno sono stata proprio felice di farmi una bella e lunga passeggiata con la mascherina naturalmente e poi sono andata a trovare il mio nonnino che non vedevo da tantissimo tempo sempre con la mascherina i guanti e la distanza ecco questa settimana io vi parlerò di ciò che segue all'ascensione vi ricordate che settimana scorsa vi ho inviato il video dell'ascensione di gesù al cielo ecco oggi come vedete dal dal testo scritto qua sopra di me vi parlerò della pentecoste sicuramente qualcuno di voi ne ha già sentito parlare ma scommetto che molti di voi non sanno che cosa sia o forse non se lo ricordano allora vi ricordate che quando gesù salì al cielo disse agli apostoli di tornare nel cenacolo a gerusalemme e di aspettare un dono dall'alto e sì infatti gesù aveva detto dopo che sarò salito al cielo vi manderò un dono ma voi state a gerusalemme ad attenderlo e questo dono arriva esattamente dieci giorni dopo l'ascensione vi ricordo che l'ascensione avviene 40 giorni dopo la pasqua dieci giorni dopo quindi in totale 50 giorni dopo la pasqua avviene la pentecoste questo nome è un po bizzarro vero e sì perché deriva dal greco pentecoste vuol dire proprio 50 giorni 50 giorni dopo la pasqua e come vedete oggi c'è un'altra opera d'arte e dopo poi vi spiegherò tutto tuttissimo una un po diversa dal solito ma torniamo alla nostra festa di pentecoste perché vedete bambini miei era una festa che già gli ebrei festeggiavano e festeggiano ancora oggi la pentecoste in ebraico si chiama shavuot che vuol dire festa delle settimane oppure festa della mietitura oppure festa del raccolto e era una festa sicuramente di origine agricola il nome ve lo fa già capire vero perché a pentecoste si si raccoglieva tradizionalmente il frumento che è il grano quello che serve per fare la farina e il pane quindi era una festa di grande gioia e allegria per tutto per tutto il popolo di israele ma soprattutto a shavuot gli ebrei ricordavano un avvenimento importantissimo della storia del loro popolo ovvero il dono della legge cioè i dieci comandamenti a mosè sul monte sinai proprio dopo la liberazione dalla schiavitù dell'egitto vi ricordate settimana scorsa parlando della del monte degli olivi dal quale gesù salì al cielo vi avevo spiegato un pochino la storia del monte sinai che era il monte appunto dove mosè incontrò dio e dove ricevette i dieci comandamenti ecco quindi vedete c'è la pentecoste è in parallelo quella dei cristiani con quella degli ebrei anche se i cristiani ricordano un altro fatto che però c'entra è con la pentecoste degli ebrei perché come vi ho già detto il cristianesimo e l'ebraismo sono delle religioni imparentate sono praticamente due fratelli perché infatti vi ricordo ancora per una volta che maria gesù giuseppe gli apostoli discepoli le discepoli erano tutti ebrei tutti appartenenti al popolo di israele e infatti gesù il suo annuncio lo rivolge innanzitutto al popolo di israele e dopodiché vedremo oggi grazie proprio al dono che ricevettero gli apostoli nel giorno di pentecoste questo annuncio di salvezza non soltanto verrà rivolto al popolo di israele ma tutti i popoli del mondo ecco che cosa ricordano i cristiani pentecoste ricordano il dono dello spirito santo a bambini miei lo spirito santo è il grande sconosciuto perché vedete anche i cristiani quelli che vanno in chiesa quelli che pregano tanto quelli che leggono i libri di religione insomma un po tutti i cristiani non hanno tanta dimestichezza con lo spirito santo i cristiani di solito pregano dio padre ad esempio con la preghiera del padre nostro oppure pregano gesù cristo il figlio di dio magari ecco si rivolgono proprio a gesù nella preghiera considerandolo proprio come un fratello i cristiani cattolici cioè che sono ad esempio la maggioranza dei cristiani in italia pregano la madonna che però ovviamente non è sullo stesso piano di dio è la mamma di gesù però i cristiani sono molto molto devoti alla madonna perché di tutte le creature lei è la più grande è seconda soltanto a dio ma lo spirito santo chi è che lo prega sicuramente i preti e i vescovi ma i cristiani diciamo normali come noi pregate voi pregate lo spirito santo vi è mai venuto in mente forse no ma magari qualcuno ci penserà da oggi in avanti perché lo spirito santo è dio come il padre e come il figlio cioè come gesù infatti i cristiani non è che credono in un dio generico ma credono nella santissima trinità che è dio padre dio figlio e dio spirito santo infatti quando i cristiani fanno il segno della croce fanno proprio così nel nome del padre del figlio dello spirito santo spirito santo è una persona e non sono due spirito e santo una quindi il padre il figlio e lo spirito santo allora il padre ci è chiaro chi sia vero il padre di gesù dio l'origine di tutto il figlio eterno del padre a un certo punto della storia amana si è fatto uomo ha preso un corpo ed è nato da maria e ha preso il nome di gesù e poi è morto sulla croce ed è risorto per la salvezza di tutti gli uomini e lo spirito santo lo spirito santo innanzitutto lo troviamo raffigurato in tanti modi diversi ma soprattutto il modo in cui lo troviamo più spesso raffigurato è sotto le sembianze di una colomba proprio come nell'immagine qui alla vostra destra vediamo in alto una colomba è un po' possiate capire e perché proprio una colomba perché nel vangelo di luca ad esempio quando gesù all'inizio della sua missione riceve il battesimo da parte di suo cugino giovanni battista presso il fiume giordano non appena lui uscì dalle acque si aprì il cielo e lo spirito santo come una colomba scese su gesù attenzione non è che lo spirito santo è una colomba è infatti il vangelo dice come come vuol dire al modo di una colomba simile a una colomba ok quindi lo spirito santo viene per questo da molti 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 artisti raffigurato proprio come una colomba e anche in questa immagine alla nostra destra ma nel giorno della pentecoste che è proprio il giorno per i cristiani della festa dello spirito santo è lo spirito santo non si manifesta come una colomba anche se in questa immagine vi ripeto è raffigurato così ma per farlo capire ai cristiani in quel giorno lo spirito santo si manifesta come vento come rombo come di tuono e come fuoco quindi con degli elementi simili alla natura perché dovete sapere che lo spirito santo è lo spirito di dio è lo spirito creatore è lo spirito che come ci racconta il libro della genesi prima della creazione del mondo quando quando tutto l'universo era ancora in forme lui aleggiava sopra le acque dell'abisso quindi lo spirito di dio è è proprio lo spirito che dà la vita è colui che genera la vita tutti tutti gli uomini sono generati grazie alla potenza dello spirito santo tutto l'universo viene continuamente tenuto in vita in in esistenza e continuamente rinnovato e creato dallo spirito santo che è lo spirito di dio e attenzione bene chi è lo spirito santo è è la persona amore si dice cioè attenzione bene è l'amore che è una persona è una cosa un po difficile da spiegare vero pensate il padre il figlio cioè il padre Gesù si amano così tanto ma così tanto ma così tanto che questo amore che loro si donano l'uno l'altro è una persona appunto lo spirito santo e quindi vedete bambini tutte le cose buone dell'universo tutte le cose buone che nascono dal cuore degli uomini tutta la bellezza l'arte la musica la gentilezza la scienza tutto tutto ciò che c'è di bello di buono e di vero nel mondo i cristiani credono che sia grazie all'opera dello spirito santo infatti sapete che noi usiamo una parola quando parliamo di sempre di cose sia dell'arte che delle invenzioni che della scienza usiamo la parola ispirazione ad esempio un poeta prima di scrivere una poesia deve avere l'ispirazione se no non gli viene in mente che cosa scrivere oppure un pittore prima di dipingere deve avere l'ispirazione perché se no il dipinto non gli viene bene oppure non lo convince e così anche il musicista sapete che i più grandi compositori mi viene in mente Mozart che era un ragazzino anzi un bambino quando iniziò a comporre la sua musica che è meravigliosa lui proprio come molti altri compositori sentiva dentro di sé una musica e lui la trascriveva con le note ecco questa è chiamata appunto ispirazione e nella parola ispirazione c'è dentro la parola spirito e quindi i cristiani credono che l'ispirazione sia proprio come un soffio dello spirito che ti dà l'idea giusta e perché proprio ho usato la parola soffio ma perché come vi ricordate dio quando crea l'uomo come fa a farlo diventare un essere vivente secondo il racconto del primo libro della bibbia cioè della genesi soffiando nelle sue narici uno spirito cioè un alito di vita infatti la parola spirito che viene dal latino spiritus traduce una parola greca che è pneuma pneuma scommetto che vi ricorda qualcosa vuol dire respiro vuol dire anche vento quindi vedete il respiro e il vento voi li vedete no se mai li potete sentire cioè se mettete una mano davanti alla bocca soffiate e sentite sulla mano qualcosa quindi anche il vento il vento non lo possiamo vedere però lo possiamo sentire perché se è forte sentiamo fresco oppure vediamo gli effetti del vento che ad esempio solleva le foglie secche d'autunno ecco lo spirito santo noi non lo possiamo vedere però possiamo vedere i suoi effetti e sì è perché ci sono tantissime cose che esistono che noi non possiamo vedere però sono vere ad esempio l'amicizia tu la puoi vedere l'amicizia no esiste sì perché vedi i suoi effetti tu puoi vedere l'amore no ma esiste sì perché puoi vedere i suoi effetti e la stessa cosa vale per lo spirito santo noi normalmente non lo possiamo vedere ma possiamo vedere i suoi effetti i suoi effetti i suoi effetti sono la pace la bontà riconciliarsi cioè fare la pace dopo un litigio la pazienza la benevolenza cioè essere gentili la pietà cioè dispiacersi per quando una persona sta male tutti questi buoni sentimenti sono frutti dello spirito santo quindi quando voi in casa andate d'accordo con la mamma col papà coi fratelli e regna l'amore la gioia l'allegria la concordia la pace il perdono perché nessuno di noi è perfetto e quindi c'è sempre bisogno di perdono allora lì c'è la presenza dello spirito di dio bello vero e nel giorno di pentecoste però lo spirito si è manifestato in un modo fortissimo particolarissimo e è proprio come posso dire meraviglioso mi sarebbe molto piaciuto essere presenti scommetto anche voi perché sentite un po qua che cosa ci racconta il libro degli atti degli apostoli che vi avevo già iniziato a leggere settimana scorsa con l'ascensione di gesù mentre il giorno di pentecoste stava per finire si trovavano tutti insieme nello stesso luogo che era il cenacolo ve lo ricordate la stanza dove gesù aveva mangiato l'ultima cena e dove poi è apparso agli apostoli la domenica di pasqua venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano attenzione quindi un rombo in greco c'è scritto un eco eco vuol dire rombo vuol dire voce vuol dire rumore quindi come di vento non vuol dire che era un vento come cioè simile al al modo del vento e riempì tutta la casa dove si trovavano apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e infatti nell'immagine vedete che sopra la testa di ogni apostolo e di maria c'è una fiammella vedete lingua di fuoco cosa vuol dire vuol dire una fiammella perché le fiammelle hanno questa forma che sembra un po la lingua che ha puntita no quindi tutti avevano queste fiammelle di fuoco che si posarono su ciascuno di loro e non appena essersi furono posate essi furono tutti pieni di spirito santo e attenzione vediamo cosa succede e cominciarono a parlare in altre lingue come lo spirito dava loro il potere di esprimersi cioè iniziarono a parlare tutti una lingua diversa che non conoscevano come se noi fossimo in classe insieme e scendesse lo spirito santo e uno si mette a parlare in inglese uno in cinese uno in russo uno in arabo uno in spagnolo uno in tedesco uno in greco è una cosa strabiliante vero e perché pensate un po quel giorno che era un giorno di festa per gli ebrei si trovavano in gerusalemme giudei cioè ebrei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo perché bambini c'erano tantissimi ebrei che vivevano fuori dalla giudea quei tempi vivevano nell'impero romano che era molto vasto e che però per le feste più importanti dell'anno tornavano a gerusalemme per pregare al tempio un po come a milano prima del coronavirus c'erano tantissime persone da tutto il mondo c'erano un sacco di turisti vero ecco poi prima o poi tornerà così di nuovo e allora vediamo un po cosa succede venuto quel fragore la folla si radunò e rimase sbigottita cioè meravigliata perché ciascuno sentiva parlare gli apostoli la propria lingua quindi vedete non è che gli apostoli si misero a parlare le altre lingue così perché non sapevano che cosa fare ma per annunciare a tutti i popoli le meraviglie compiute da dio e da gesù erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano costoro che parlano non sono forse tutti galilei e com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di dio infatti tutti gli apostoli erano galilei la galilea era una regione della palestina al nord dove c'era anche nazareth e dove c'era il lago di galilea vi ricordate che la maggior parte degli apostoli erano dei pescatori che gesù aveva incontrato proprio sulle rive del lago di galilea quindi i galilei avevano un loro accento e di certo non è che questi pescatori sapevano parlare tutte le lingue di quel tempo infatti le persone rimasero stupite tutti erano stupiti e perplessi chiedendosi l'un l'altro che significa questo altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati quindi alcuni pensavano che le apostoli fossero impazziti oppure ubriachi che avevano bevuto troppo vino pensate allora pietro levatosi in piedi in piedi con gli altri undici parlò a voce alta così pietro vi ricordate che non è che aveva fatto una gran bella figura durante la passione di gesù perché pietro per paura di essere catturato per ben tre volte aveva rinnegato gesù aveva detto no no io non lo conosco quando gesù era stato catturato quindi diciamo che di natura non è che pietro fosse proprio coraggiosissimo e anche gli altri apostoli infatti vi ricordate che la domenica di pasco erano tutti chiusi a chiave barricati dentro il cenacolo per paura di essere catturati anche loro invece guardate lo spirito santo li riempie di coraggio infatti pietro prende la parola e parlò a voce alta così uomini di giudea e voi tutti che vi trovate a gerusalemme vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate sono appena le nove del mattino accade invece quello che predisse il profeta joele che era un profeta antico che visse circa 700 anni prima della nascita di gesù e cosa diceva questo profeta joele negli ultimi giorni dice il signore io effonderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profeteranno i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni allora chiunque invocherà il nome del signore sarà salvato e pietro riprende poi il suo discorso e dice uomini di israele ascoltate queste parole gesù di nazareth uomo accreditato da dio presso di voi per mezzo di miracoli prodigi e segni che dio stesso però fra di voi per opera sua come voi ben sapete dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di dio fu consegnato a voi voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso ma dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere questo gesù dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni innalzato pertanto alla destra di dio quindi con la sua ascensione ve lo ricordate che è salito al cielo e dopo aver ricevuto dal padre lo spirito santo che gli aveva promesso lo ha effuso come voi stessi potete vedere udire e fondere lo spirito vuol dire donare con abbondanza lo spirito sappia dunque con certezza tutta la casa di israele che dio ha costituito signore e cristo cioè messia quel gesù che voi avete crocifisso all'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a pietro agli altri apostoli che cosa dobbiamo fare fratelli cosa vuol dire che si sentirono trafiggere il cuore si pentirono e pietro disse pentitevi cioè dispiacetevi del male che avete fatto e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di gesù cristo per la remissione dei vostri peccati dopo riceverete il dono dello spirito santo per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani quanti ne chiamerà il signore dio nostro allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3000 persone quindi vedete quel giorno al giorno di pentecoste nasce la comunità cristiana e che cos'è la comunità cristiana è la chiesa perché chiesa non è semplicemente un edificio sacro dopo molto molto dopo sono state costruite le chiese per i primi 300 anni del cristianesimo non esistevano le chiese come le conosciamo noi la chiesa non è un edificio fatto di mattoni la chiesa è l'insieme dei cristiani la chiesa è fatta da pietre vive cioè tutti i cristiani e la chiesa che cos'è è il corpo di cristo cioè il corpo di gesù e gesù è il capo cioè la testa quindi i cristiani insieme formano questo corpo che è la chiesa e questa chiesa nasce il giorno di pentecoste perché perché grazie al dono dello spirito santo gli apostoli che prima erano sfiduciati impauriti dubbiosi con i loro peccati con i loro limiti quando accolgono lo spirito santo non sono più loro che agiscono con secondo la loro personalità ma è lo spirito santo che agisce attraverso di loro e compie dei grandissimi prodigi miracoli e segni perché è proprio lo spirito di dio che agisce in loro e infatti vedete pietro guardate con la sua parola non è che è per merito di pietro che si convertono e si fanno battezzare 3000 persone ma è per opera dello spirito santo pietro che cosa ha fatto lo ha accolto e ha permesso che lo spirito santo agisse dentro di lui non annullandolo ma facendo emergere tutti i suoi pregi perché lo spirito santo quando noi lo riceviamo non è che ci fa ci fa scomparire ma lui tutti i nostri pregi tutti i doni che noi abbiamo già ricevuto dal giorno in cui siamo nati e dal giorno che abbiamo iniziato a esistere lo spirito santo li fa fiorire questi doni li fa aumentare proprio li fa fruttificare vedete e quindi lo spirito santo è il dono più grande e questo dono è stato dato agli uomini grazie al sacrificio di gesù sulla croce la salvezza consiste proprio in questo secondo i cristiani cioè che non che noi possiamo vivere la vita di dio già su questa terra non solo quando moriremo e andremo in cielo ma già su questa terra possiamo fare esperienza di dio e vivere il paradiso già qui perché il paradiso è vivere in unione intima in comunione con dio essere uniti profondamente a dio e questa cosa è una promessa che gesù ha fatto a tutti tra l'altro non è che l'ha fatta solo ai cristiani gesù questa promessa questo dono lo vuol fare a tutti quelli che lo accolgono perché questo dono è per tutti gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi e vedete questo dono andrebbe chiesto io ho pensato ogni volta che prima quando andavo all'università sempre prima di studiare chiedevo aiuto allo spirito santo chiedevo aiuto per avere la luce all'intelletto perché vedete lui proprio ci illumina la mente ci aiuta a prendere le decisioni giuste per la nostra vita ci aiuta a scegliere la strada giusta per noi ci aiuta a far fruttare tutti i nostri doni tutte le cose per cui siamo portati lui ci aiuta proprio a farle diventare eccellenti e poi lui porta la gioia il dono dello spirito santo è la gioia l'allegria l'amore perché lui è proprio questa persona amore e questo lo vediamo nel nostro nella nostra immagine questa è una icona icona deriva dalla parola greca eicon che vuol dire proprio immagine ed è un tipo di arte sacra tipica dei cristiani orientali cioè dei cristiani della grecia della russia della siria dell'ucraina questi cristiani sono chiamati cristiani ortodossi vedete le opere d'arte che vi avevo fatto vedere finora facevano parte della cultura occidentale cioè dell'ovest cioè nostra tipo dell'italia della spagna della francia ok vedete infatti vedete è molto diversa dalle altre opere questa innanzitutto notiamo lo sfondo d'oro questo l'abbiamo già visto che sta a significare che questo evento che ci è che ci viene raffigurato è un evento spirituale cioè del mondo di dio perché oro è il colore della luce e sempre nella bibbia c'è scritto anche che dio è luce e quindi cosa vediamo vediamo gli apostoli li vediamo seduti in semicerchio con al centro maria e vediamo sulla testa di ciascuno di essi oltre all'aureola già dorata questa fiammella c'è lo spirito santo e da dove proviene questa fiammella proviene dall'alto vedete che in alto c'è una specie di sole vediamo la colomba dello spirito santo dietro di essa sembra esserci una stella è all'interno di una sfera azzurra e ha tanti raggi rossi allora la sfera celeste vuol dire il cielo cioè la dimora di dio quindi vuol dire questa immagine vuol dire che lo spirito santo che è dio scende dal cielo sulla terra e vedete che da questa sfera escono proprio dodici raggi che vanno poi a da questi raggi si distaccano queste fiammelle che vanno a posarsi sul capo di ciascuno di essi con al centro maria certo perché infatti gli apostoli erano i discepoli erano sempre con maria nel cenacolo a pregare maria è posta più in alto come su una specie di di trono perché perché maria è chiamata anche la sede dello spirito santo e la sposa dello spirito santo perché lei è stata la prima credente perché lei è stata la prima che ha ricevuto il dono dello spirito santo ma non il giorno della pentecoste ma il giorno dell'annunciazione quando lei disse sì all'angelo gabriele e ricevette e divenne in quel momento la madre di gesù perché ricevette la potenza dello spirito santo quindi maria è anche che cosa immagine della chiesa ve l'ho già detto anche quando vi avevo parlato di altre opere d'arte ad esempio del crocifisso di san damiano maria è sempre utilizzata come simbolo della chiesa perché lei è come posso dire è la credente perfetta perché lei è senza peccato e ha detto di sì con tutte le sue forze con tutta la sua volontà al progetto di dio senza mai tradirlo quindi è l'immagine proprio della chiesa santa e i dodici apostoli sono ovviamente anche loro l'immagine i rappresentanti della chiesa che nasce perché grazie alla loro predicazione perché poi gli apostoli dopo la pentecoste iniziarono ad andare in tutto il mondo conosciuto allora pensate san tommaso andò in india ad annunciare il vangelo pietro arrivò fino a roma san giacomo andò in spagna e così via quindi andarono in tutte le direzioni del del mondo che era conosciuto allora per annunciare la parola del vangelo a tutte le genti cioè a tutte le persone che non facevano parte del popolo di israele perché vedete così come sul monte sinai mosè ricevette da dio i dieci comandamenti che erano l'alleanza tra dio e il popolo di israele che infatti gli ebrei festeggiano nel giorno di pentecoste così allo stesso modo i cristiani ricevono lo spirito santo in quel giorno di pentecoste gli apostoli ricevono lo spirito santo che è la nuova legge scritta non più su tavole di pietra ma scritta dentro nei cuori di carne ed è la legge dell'amore che fa entrare nell'alleanza nella prima alleanza che era stata fatta tra dio il popolo di israele ecco il giorno di pentecoste tutti i popoli possono entrare a far parte di quell'alleanza speciale che dio aveva fatto con il popolo eletto quindi questa prima alleanza che era esclusiva per israele con la pentecoste diventa un'alleanza con tutti i popoli del mondo con tutte le persone del mondo queste persone del mondo questo mondo è rappresentato da quel vecchietto che vediamo sotto vedete che c'è come una sembra una una stanza una grotta scura e c'è dentro un signor anziano in realtà sembra un che ha una specie di corona sulla testa e ha in mano un drappo bianco questo signor anziano è la personificazione del cosmo cioè del mondo in arte spesso vengono alcune alcune cose ad esempio delle virtù come la sapienza la speranza l'amore la giustizia in arte vengono raffigurate con le sembianze umane ecco in questo caso il cosmo cioè il mondo la creazione è raffigurato con le sembianze di questo anziano re e che cosa vuol dire anziano perché perché il cosmo a partire dal peccato dell'uomo quindi dal peccato di adamo attendeva da lungo lungo tempo la redenzione cioè la salvezza e quindi ha dovuto aspettare tanto prima che giungesse questo rinnovamento dato dallo spirito santo quindi anziano e poi ha la corona perché perché il re di questo mondo cioè nel mondo c'è c'era c'è ancora ma non ma attenzione è diverso c'è ancora perché non tutti gli uomini accolgono il dono di dio nel loro cuore e dio cosa vuole vuole il bene nei cuori delle persone quindi il ma il principe di questo mondo il re di questo mondo sta a significare il male che è presente che regna nel senso che è potente c'ha la sua forza e che cosa ha in mano però questo cosmo questo anziano un drappo bianco noi non lo riusciamo a vedere bene da questa foto ma dentro questo drappo bianco ci sono 12 rotoli di pergamena che rappresentano l'annuncio del vangelo fatto dai 12 apostoli quindi in mano tiene il messaggio della buona notizia della salvezza quindi vedete lui è nel buio perché le tenebre sono l'immagine del male e sono in contrapposizione cioè in contrasto con il resto dell'immagine che è piena di questa luce che viene dallo spirito di questo oro di questo fuoco perché bambini il fuoco è l'immagine della luce come voi saprete sicuramente il sole è un'enorme palla di fuoco quindi la luce è data dal fuoco ok quindi vedete il buio invece è sempre immagine delle tenebre cioè del male cioè della lontananza da dio ecco quindi questo cosmo è lì nel buio da tanti 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 anni che aspetta la redenzione cioè la salvezza e questo dono della dello spirito santo ha iniziato a ha iniziato quel processo di salvezza che secondo i cristiani e secondo san paolo ad esempio che san paolo ammini miei che non era uno dei dodici apostoli però venne considerato un apostolo perché è stato il più grande diffusore del vangelo e anche san paolo arrivò a roma ecco è quello seduto dal nostro punto di vista a destra di maria san paolo invece a sinistra di maria sempre dal nostro punto di vista c'è san pietro quindi san pietro e san paolo sono i principi della chiesa si dice ecco san paolo cosa dice dice che tutto il creato cioè il cosmo aspetta con ansia la manifestazione della salvezza che viene da dio la manifestazione dei figli di dio quindi vuol dire che i cristiani credono è che con la con la risurrezione di gesù con la pentecosta è iniziato quel processo che giungerà al culmine cioè alla fine con una grandissima manifestazione dello spirito santo che verrà sulla terra a rinnovare tutta la terra come una nuova creazione che coinciderà cioè avverrà nello stesso momento in cui gesù tornerà sulla terra vi ricordate che settimana scorsa abbiamo visto l'ascensione abbiamo detto che allo stesso modo in cui gesù è salito al cielo gli angeli avevano detto agli apostoli che così gesù tornerà un giorno dal cielo ecco questo ritorno di gesù è si manifesterà con questa grande nuova effusione di spirito santo su tutta la terra su tutti su tutti gli uomini che porterà che cosa porterà l'amore l'amicizia cancellerà del tutto il male dalla terra non ci sarà più male non ci sarà più dolore non ci sarà più odio non ci sarà più morte e dio sarà tutto in tutti questa è quello che ci racconta la sacra scrittura cioè la bibbia che i cristiani considerano parola di dio detto questo io vi saluto vi mando un bacio grandissimo vi auguro di poter fare delle bellissime passeggiate magari con mamma o papà e di potervi un pochino rilassare in questa settimana vi manderò oltre a questo video video l'immagine e il testo degli atti degli apostoli così ve lo potete rileggere e riguardare e saluto voi e tutte le vostre famiglie ciao bimbi